Ciao amici di Italia Top Games, mentre scorrono le immagini del film che arriverà al cinema il 29 marzo, regia di Steven Spielberg, sono molto lieto di parlarvi del libro da cui è tratto Ready Player One, il film appunto che arriverà il 29 marzo in tutte le sale italiane. Ready Player One infatti nasce come un romanzo nel 2010, tenetevi a mente questa data perché ci tornerò presto, realizzato da uno scrittore americano che nel 2010 era sconosciuto, adesso è un autore di grandissimo successo, Ernest Cline. Perché ho voluto sottolineare 2010? Perché leggendo questo libro che appena l'ho iniziato a leggere l'ho dovuto terminare nei momenti ovviamente di tempo libero, l'ho terminato nel più breve tempo possibile perché appassiona e subito è incredibile come, oltre al fatto che il libro è ambientato in un futuro post-apocalittico, post-esaurimento delle risorse energetiche, è incredibile come Cline sia riuscito a vedere nel futuro prossimo dei giochi di ruolo online, nei mondi persistenti, negli MMO, perché infatti tutto quello che lui scrive, almeno una parte, non esisteva nel 2010, esiste nei giochi più attuali, più recenti e già questo aspetto ci fa capire come comunque abbia una visione profetica in qualche modo del futuro dei videogiochi. Ma Cline guarda soprattutto al passato nel suo libro, è un grande omaggio all'iconografia della fine degli anni 70 e della fine degli anni 80, Cline è quasi un mio coetaneo, stiamo parlando dei quarantenni o qualche anno più, qualche anno meno, che hanno vissuto l'epoca delle prime console, degli Atari, dei videopack, dei primi computer 8-bit, delle console 8-bit come il Nintendo e il Sega Master System. Serie TV, film, videogiochi, un universo che rinasce in questo gioco di ruolo online in cui grossa parte del romanzo è ambientato. Questo romanzo che ci parla di un protagonista, di un nerdacchione del futuro, come potrei essere io, come potrebbero essere tanti all'ascolto, che si dà una caccia al tesoro. L'autore del più grande videogame di successo, un universo online, un MMO clamorosamente realistico in cui pian piano si spostano anche le scuole, si spostano tante attività normalmente che si fanno nella vita reale, si spostano nel virtuale, questo creatore di questo mondo muore e tutta la sua eredità viene messa in palio con una caccia al tesoro. Bisogna trovare gli easter egg, cioè quei segreti nascosti ai videogiochi, lui ne ha lasciati tre e chi li troverà avrà la sua eredità. Si creano dei clan, come succede nei videogiochi normali e c'è anche una multinazionale da sempre concorrente di quella dell'autore del videogioco che è morto, che si organizza invece proprio come una multinazionale agguerrita per cercare di trovare questi easter egg. Non vi do uno spoiler dicendovi che nel libro ci viene subito detto che il protagonista è colui che trova i segreti, ma non vi dico assolutamente nulla su come li troverà. Comunque stiamo parlando di un libro veramente bello, divertente e ovviamente ne parliamo qui su Italia Top Games perché è un libro che è anche un film, prossimamente molto prossimamente, indirizzato a chi ama videogiocare, indirizzato a chi conosce bene come funzionano i meccanismi dei giochi online e con tutta un'iconografia veramente leggendaria per noi nerdacchioni o gic, che dir si voglia. Un libro che sa come conquistare questo tipo di pubblico, il tipo di pubblico come posso essere io e come possono essere tanti all'ascolto, con una scrittura molto lieve, molto rapida, molto piena di colpi di scena, mai troppo data diciamo agli approfondamenti, agli abbellimenti, ai manierismi. Questo potrebbe essere anche un limite per chi ama un altro tipo di letteratura più alta, fra virgolette. Ma come dire, se vi volete appassionare, se vi volete divertire, se volete leggere tanti nomi di giochi, di software house del passato, che forse a qualcuno farà venire anche una lacrimuccia per la nostalgia, per gli anni della nostra infanzia, della nostra adolescenza, sicuramente questo è un libro da consigliare senza esitazione, da leggere al volo proprio nei tempi più rapidi possibili. Casomai, ecco, un consiglio è anche quello di leggerlo prima di andare a vedere il film o subito dopo, così si fa un confronto e si vede un po', anche se queste operazioni non sono semplici, e qui stiamo parlando comunque di un regista come Steven Spielberg, che ci ha regalato tanti grandissimi capolavori nel corso degli anni, e io reputo che questo libro si presta perfettamente a un adattamento cinematografico. Quindi, io non posso che consigliarvi la lettura di Ready Player One, bel libro, veramente appassionante per noi videogiocatori, per noi nerdacchioni, quindi, come dire, se l'avete già letto o se le farete, lasciate i commenti a fine post, perché sono veramente curioso di sapere se anche voi avete avuto le stesse impressioni da questo libro che Italia Top Games consiglia. Se fosse stato un videogioco gli avremmo dato un bel 9, noi di libri ce ne occupiamo saltuariamente, quindi un voto specifico non lo diamo, ma da consigliare senza esitazione. Ciao e buon Ready Player One al cinema!